Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo l'ultimo numero del nostro trimestrale di divulgazione scientifica lobby della scienza e della tecnica. Il numero 54 edizione estiva, giugno, luglio e agosto 2019. È un trimestrale di divulgazione scientifica, ci occupiamo di scienza, di modellismo, di mineralogia, di microscopia, di elettronica e di tante notizie che riguardano appunto la divulgazione scientifica. In questo numero proponeremo un articolo dedicato alla stampa 3D, a scrivere col fuoco, quindi la pirografia, a nemeteoriti, il modellismo si occuperà della costruzione della nave Palinuro, la nave scuola della Marina Militare Palinuro. In elettronica ci occuperemo di un termostato smart, quindi la possibilità di controllarlo tramite wireless e varie applicazioni. E poi trattiamo di tante notizie interessanti. C'è un bel articolo di cosmologia dedicato alla fotografia, ai buchi neri. Poi abbiamo tante notizie dedicate a fiere ed eventi in giro per l'Italia, dedicati alla mineralogia e alle scienze naturali. C'è un bel articolo dedicato alla trigonometria. Per saperne di più potete trovare la rivista in edicola oppure acquistare il numero in versione online. Grazie per l'attenzione e vi aspetto al prossimo nostro video. Buona giornata. Grazie. Grazie.